Come si chiede gli imballaggi? Come si fa con i piatti prima di metterli nella lavastoviglia, cioè rimuovere i residui grossolani. I tappi di plastica vanno avvitati alle bottiglie perché questo permette di schiacciare la bottiglia in modo tale che occupi meno spazio nel rifiuto. Inoltre i riciclatori non buttano via come si potrebbe pensare questi tappi ma li avviano a riciclo insieme con le bottiglie.